eccoci qua ragazzi buongiorno a tutti e bentornati a spasso col tringa nella macchina infernale il tringa sempre presente iscrivetevi campanellina pollice in su per il tringa doppio pollice per il diavolo team maglie calcio nel primo commento codice sconto tringa per fare i vostri ordini pagamenti alla consegna descrizione video matteo chiamenti il milanista qualunque iscrivetevi immediatamente da matteo iscrivetevi immediatamente da matteo vecchio cuore rosso nero matte tutti i miei social del gruppo telegram aperto a tutti oggi alle 13 diretta per sapere quale sarà il sorteggio almeno penso intorno alle 3 dovrei essere libero per andare a fare una diretta e sapere quale sarà il sorteggio contro chi andremo a giocare questi quarti e ragazzi sarà l'ultimo sorteggio europa league chiaramente in base a chi affronteremo poi potremmo anche fare una stima di chi potremmo affrontare in semifinale e poi in finale quindi molta molta attenzione oggi al sorteggio ci sono squadre importanti oggi inizia veramente la vera europa league perché visto poi la partita di ieri sera se corren nella nella partita di ritorno avevamo faticato e comunque il milan col minimo sforzo anche lì aveva comunque preso il pass per andare agli ottavi ieri sera è stata nel secondo tempo soprattutto è stato più un allenamento che una vera e propria partita e non è e non era banale cioè non era così semplice da capire perché per come la stava preparando lo slavia e per la pressione che stava mettendo l'allenatore su questa partita poteva risultare una gara difficile mentre invece il milan nel primo tempo la mette in cassaforte un gol splendido di rafa leao che con si continua a dire che è ciondolante che non è determinante via dicendo però ieri leao disegna una parabola eccezionale fa un gol splendido e veramente veramente rafa forse in questa stagione è nel momento migliore abbiamo bisogno del miglior rafa leao christian pulisic e loftus chic fanno la prima e la seconda marcatura dell'incontro nel secondo tempo subiamo il solito gol che praticamente prendiamo in ogni partita e il mio amico flachi ieri sera flavio garelli chiaramente sul gruppo telegram ce lo ha ricordato che era un pochettino arrabbiato perché subiamo sempre questo gol flavio sono d'accordo con te è di rito ormai sembra che ce l'abbiamo scritto dal dottore che il gol lo dobbiamo prendere chiaramente in una partita così con un risultato così ampio e rotondo nelle due nei 180 minuti ci sta che la squadra a un certo punto abbassi un po la soglia dell'attenzione anche se veramente il il punto sul quale dobbiamo veramente lavorare quindi ieri sera era importante fare clean sheet non ci siamo riusciti però insomma poco importa anche perché anche loro hanno trovato un bel gol devo dire che loro hanno fatto tre gol in due partite tutti e tre gol molto molto belli il milan scende in campo con mike megnan davide calabria teo hernandez gabbia tomori a centrocampo copia inedita di mu fra costituita da musa e jacine adli il trio sulla trequarti è loftus chic fare il trequartista di peso pulisic a destra leao a sinistra e davanti oliviero bomber vero nei primi minuti lo slavia praga viene a prenderci e pur non andando mai in difficoltà anche se mike megnan comunque fa una grande parata perché fa una gran parata mike il milan non va in grande sofferenza cerca di gestire comunque il risultato cerca di stare tranquillo loro nella prima nella prima mezz'ora visto la carica che aveva messo su questa partita il loro allenatore spesso fanno interventi veramente al limite e al ventesimo se non mi sbaglio se non mi ricordo sia al ventesimo rimangono un'altra volta in dieci una squadra che un po spinta dal pubblico un po spinta da tutte le pressioni il loro allenatore aveva detto che sarebbero passati l'ora via dicendo spesso arriva un po lunga negli interventi e alla fine noi perdiamo mike megnan per infortunio e loro perdono un giocatore per 80 minuti e questo condiziona molto la loro partita il milan stavolta però è stato bravo molto bravo a sfruttare la superiorità numerica una volta andati in superiorità numerica il milan prende campo chiaramente giochiamo molto in fase offensiva rimaniamo molto alti la squadra comunque rimane molto corta e ripeto poi ditemi che io le cose non le dico prima e ragazzi è semplicemente una questione di capire quello che sono le quelli che sono i giocatori che abbiamo in rosa con fictomori in campo la squadra può stare un bel po più alta quando rimane bassa difende bene perché tomori a differenza degli altri giocatori che abbiamo come centrali è un giocatore che gioca sempre d'anticipo e difficilmente sbaglia quando giochiamo in fase offensiva fictomori è quel giocatore che ci permette di stare anche lontani dalla nostra area di rigore perché comunque a velocità a posizione e a anticipo quindi un milan corto un milan che gioca bene per tutta la partita perché poi alla fine veramente sbavature se non vogliamo parlare se non parliamo del gol alla fine sbavature non ce ne sono stati arriva il primo gol di pulisic pulisic che ragazzi è veramente impressionante veramente impressionante abbiamo un attacco che pur non vedendo girù fra le marcature comunque ci permette di segnare e di giocare bene su assi di teo hernandez arriva il secondo gol di loftusic che anche lui la butta sempre dentro quindi tanti gol dal mercato estivo veramente tanti gol dal mercato estivo e poi arriva la parabola splendida di rafaleao che chiude la partita in sostanza chiude la partita nel secondo tempo inizia un allenamento per il milan che ha la fortuna di andare a giocare contro il verona dopo una partita non a ritmi altissimi e che comunque non dico che ci siamo riposati ma comunque mentalmente non è stata come la partita affrontata con ren insomma quindi mi sembra che ieri sera il mini il milan col minimo dello sforzo abbia portato a casa il massimo del risultato siamo ai quarti adesso come ho detto prima inizia la vera europa league perché le squadre che sono andate avanti ieri sera il liverpool è stato devastante scusatemi se ieri sera non ho fatto la diretta ma purtroppo c'è stato un incidente e quindi ho fatto sono arrivato a casa tardi ho dovuto guardare la partita tramite telefono perché ero in macchina quindi ho fatto molto molto tardi ieri sera non avevo veramente voglia di fare dirette e via dicendo chiaramente oggi ci saranno più di una diretta perché probabilmente seguiremo insieme il sorteggio e poi stasera andremo a fare una diretta la diretta post partita quindi vi aspetto in tanti perché ci sono tante novità e tante cose da dire faremo le pagelle tutti insieme stasera faremo le pagelle tutti insieme e basta e basta ieri sera pioli ha preparato una partita perfetta il milan ieri è stato perfetto non mi sento di dire niente a nessuno per quanto riguarda mike sembra che sia tutto a posto e poi a fine partita ci sono state le pofine a inizio partito dalle parole di giorgio furlani il milan è di redbird il proprietario del milan e redbird tutta la società è a disposizione degli organi inquirenti e quindi io continuo a vedere una cosa molto molto gonfiata anche per colpa nostra anche per colpa della società perché questa società ha bisogno di contare di più nelle stanze dei bottoni è un milan che probabilmente per gestione societaria non lo vuole fare però in italia la proprietà deve capire che in italia così funziona questo è quello che funziona in italia bisogna contare di più nelle stanze che contano assolutamente perché se no la classica mediatica ti attacca e anche a livello di serie a si rischia sempre di rimanere indietro mentre invece abbiamo visto tutti che a a milano siamo gli unici a essere rimasti in europa mi ero dimenticato di dirvelo care le mie merde i cugini voi siete i cugini degli altri perché cugini noi non ne abbiamo però care le mie merde vi ricordo che in europa ci siamo noi come sempre perché voi in europa non contate un emerito cazzo niente ragazzi il video era questo stamattina un'analisi corta perché comunque non mi sembra di che la partita di ieri debba essere commentata con chissà che cosa e ci vediamo più tardi ci vediamo più tardi in live vi voglio bene a tutti sempre forza vecchio cuore rosso nero ricordatevi su questo canale si fa la vecchia maniera noi siamo vecchio stampo ragazzi scusatemi se il video un po indifferita perché ho devo cambiare telefono devo cambiare telefono il telefono che funziona male ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.